Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Il 3 dicembre sarà domenica ecologica. Previsto lo stop al traffico privato nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30. Per la domenica ecologica, come di consueto, ci saranno delle veroghe, tra le altre per le auto a benzina Euro 6, per quelle elettriche, ibride a GPL e a metano. Via libera anche per i veicoli con contrassegno disabili e per i mezzi dei servizi di sharing e ancora per i ciclomotori a due ruote, 4 tempi Euro 2 successivi e per le moto 4 tempi Euro 3 e successive. Aggiornamenti e la mappa della fascia verde sono su Roma mobilità.it